Io non so giocare ma gioco. Io gioco e sono un campione. Io vorrei giocare, posso? Che spettacolo, che piacere, che divertimento. Lo sport, la musica e tantissimi ospiti. Calabria 2010 vuole anche la tua simpatia. Iscriviti subito www.bw.org per tutte le informazioni. Calabria 2010 è l'unica tappa italiana di beach volley around the world. Il circuito mondiale di beach volley amatoriale con in più il fascino dello spettacolo e dei campioni del beach volley. Ti aspettiamo sul lungomare di Paola all'Oasi dal 5 all'8 agosto. Anche se non sai giocare, porta la tua voglia di vincere. Calabria 2010 in collaborazione con Radio Sound. Il quotidiano della Calabria e con il patrocinio del comune di Paola. Beach volley around the world. Voglia di partecipare.